Al termine del vertice il Ministro Lupe e il Presidente Lanas e Ciucci hanno risposto ad alcune domande sia sullo stato di avanzamento dei lavori che sulle richieste da parte delle aziende e dei cittadini di ricevere gli aiuti promessi. I sindaci poi chiedono di poter utilizzare le somme donate dai cittadini attualmente bloccate dal patto di stabilità. Ci eravamo presi in impegno, me l'ero preso personalmente io quando venni subito dopo l'alluvione con i sindaci, con i prefetti che di poter intervenire immediatamente e rapidamente anche occupandoci giustamente di infrastrutture che non erano di competenza del Governo, le strade provinciali, di poter intervenire rapidamente per dare dei segnali con le risorse che è messa a disposizione anche dalla prevenzione e dalla legge di stabilità. I risultati che abbiamo visto oggi sono risultati importanti, 51 milioni, 51 opere, tempi certi in cui si stanno realizzando è l'unica strada che abbiamo davanti per dare risposte alle giuste attese e tante volte purtroppo la giusta rabbia dei cittadini. Il Governo e le istituzioni quando si prendono impegni deve mantenerle. Quindi su questo ci siamo dati con il commissario straordinario Ciucci e con la Regione Sardegna ulteriori stimoli, ulteriori certezze di date perché si rispettino i tempi e tra l'altro nella massima trasparenza e con le risorse certe. Poi mi sono state poste le altre questioni da parte del Sindaco di Nuoro, degli altri sindaci. Penso per esempio al tema delle donazioni che sono incluse nel patto di stabilità. Mi sembra una cosa ovviamente che non può stare. Il mio impegno personale, ma certamente l'impegno anche della Presidenza del Consiglio, va nella direzione che in situazioni come queste si possano i sindaci almeno utilizzare le donazioni dei cittadini, dei privati, che tanta generosità hanno potuto dimostrare come sempre solidarietà nel nostro Paese. Poi avremo gli altri problemi e credo che ognuno di noi debba fare la sua parte. Ci dovrà essere un impegno forte da parte del Presidente del Consiglio Renzi e degli altri colleghi perché finalmente le richieste che tra l'altro so il Presidente della Regione Sardegna ha rappresentato anche direttamente al Presidente del Consiglio si diano delle risposte. Mi riferisco ai risarcimento per le famiglie che hanno subito danni, alle risorse che dovevano essere stanziate e alla questione del patto di stabilità.